Ma buon dia a tutti amici di doppia frizione, siamo tornati in questo doppia frizione reaction Siamo nella settimana numero 16 dell'anno e adesso andremo subito a vedere i video E si parte ora Ok Fiesta subito fuori i campi, madonna! Si parte subito nel peggiore dei modi, madonna che botta E' un'altra grazione, perdere il controllo, va nei campi, probabilmente si impianta nell'erba e inizia a cappottare Ho visto tipo 6 o 7 cappottoni, madonna come è messa la macchina, non c'è più neanche il motore Porco cane Beh i piotti vedo che stanno bene, i piotti con i piotti stanno bene Uh 106, porco cane, altra volta Mamma mia che botta Cosa è fatta? Ok Riuscito a tenere No dai! Staccionata di sotto la ruota XGT contro il muro Un saxo Un'altra terra varissima Ma con tutti i muri, va bene? Non so che macchina sia In realtà il primo primo primo, mi addiova fuoco, fuoco Via, 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 via Infatti non riuscivo a capire il rumore del motore perchè stava andando fuoco alla macchina Fuoco fiesta Quasi giù dal ponte Credo che sia un ponte Ranser Io lo vedo malissimo È il prossimo? Ok non è più quella Quella curva Adesso c'è un BMW, c'è un wagon Porco cane che botta Da ibiza POM Bello sto cuore però Un BMW drift E E Immaginavo Tac Vabbè Non ha fatto tanti danni dai Ah un'impresa No 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 Mannaggia No No Fermati Hai un delta Fermati Mi è venuto male Mi è venuto male vedere un delta fare queste cose No No Dai Non puoi farmi delle cose del genere Maddio fa Ma è un delta Poverino Perchè non lo sapessi è la mia auto preferita Qualsiasi delta Cioè non è che funzioni una Qualsiasi delta è la mia auto preferita E' pure della Italia E' pure della Italia E' stato tirando la terra sopra per non farlo premere fuoco No Vado finalmente ha tirato fuori il sito No Vado 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 Attenzione Squadartissimo Quasi Muro C'è l'albero Porsche Uh Sbagliato un Porsche Non è che vada molto Oh Immaginavo Vabbè si è salvato ancora Si è appoggiato Il testo 207 come era campato Infatti si vede Si va Porca puttana come cazzo registri No No Beh è un italiano immaginavo Porco cane Ma cosa cazzo ha fatto Ho chiesto l'anser Oh Dato giù una boscaglia Oh finalmente terra che cross Ok Ma ha portato proprio fuori fuori Vediamo Ah qui anche Stofferson Oh madonna contro Ok sono scambiando tutti Dua ruota era quasi in tenuta Ma che cos'è? Tu ti dici? Si cappottano Va bene Questo che pensa che è autocross Eeeh C'è un Oh my god Oh my god Madonna ma che testo di minchia Diamo NASCAR Oh tutto Cotto Cotto un muretto Oh Ok Oh 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 Che botta Cotto un muretto Sino brasiliano Oh Fuori Tom Oh Oh In tre Sandwich Mamma mia Ok 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 No Carri Carri Capo Tanto Tanto tra Si sono toccati tra Tanto tra Oh 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 O Oh Oh Um struttura sono anche una ruota, mentre non so dove passare ooooh questo qui sono belli e adesso posso insultare da abitaco abitaco un po' esterno un po' esterno bellissimi tutti oh mio dio non ha preso il salto non ha preso il salto guarda 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 ah ma mi sa che si sono incastrati madonna adesso escono e si spaccano e moncap oh no oh fuori oh fuori oh buong come si sono in giro ma ci sono in giro ma ci sono in giro tutto in giro oh buonga oh buonga buonga oh buonga sil factura ha Scherci c'era è consicli io sa gravi su l'ottura si l'attro cor madonna che botta 1,2,3,4,5 macchine coinvolte se va bene donna K, Renault K orco caro è andato contro l'altro e l'altro ha buttato contro il muro mamma mia che frontale che ha tirato meno male che queste macchine sono più sicure di qualsiasi altra cosa al mondo i colleghi di da hinter com di un costa onze foto con carol urbaniac e vi ha un soggetto oh sorry poi poi a booo murissimo murissimo perso il controllo ha portato anche altro fuori madonna che botta pensate ai personini dentro l'abitacolo mamma mia che cos'è sta cosa oi 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 ma allora come cosa fanno queste cose ah ma è possibile che è buono non lo so ooo dritto un fuggone non so come si possono chiamare queste K un'isutsu K va bene andato fuori ta toccatina ci sta adesso io in mezzo si va bene ma porca puttana vabbè motocross no non ho visto vabbè mamma mia si dove è madonna che botta vabbè ahhh mi è arrivato nella schiena madonna che botta qui è arrivato tutto un po' veloce è andato contro al tipo e bom anche questa settimana i miei capelli non so dove sono eeeh anche questa settimana è finito cosa qui è la sedicesima settimana io volevo andare a vedermi qualcosa a Monza a Imo a Monte Carlo percato però che non sono riuscito perchè stanotte lavoro quindi io vi rimando a gli altri video che ci sono su doppia frizione e ci vediamo ad un prossimo video ad un prossimo video